Il derby della Murgia fra Team Altamura e Bitonto, ricco da aspettative per motivazioni antitetiche pur simili, con gli uni sul ciglio del baratro play-out e gli altri a caccia del podio del girone, partorisce un pareggio che lascia la mare in bocca a tutti i protagonisti della pugna. Il nuovo mister nero-verde, Alessandro Potenza, cambia modulo e vara un undicinedito fondato sul 3-5-2 e sull'usato sicuro, anche a causa di una tempesta influenzale, non Covid per Fortuna, che ha funestato il gruppo in settimana. Fra i pali si rivede il troppo imberbe Canizzaro, Petta, Lanzolla e Colella formano il terzetto arretrato, facitor di gioco Biassonne e Manzo, con Mariani e Gregario di lusso. Lacassi e Stasi a settar sugli esterni, il duo Lattanzio gli è da resta davanti. Sceglie il mestiere anche Leo Di Benedetto, con Mattera e Sal dietro, Serra e un immarcabile Ziello in mezzo, Abreu, Baraggio e Lorusso in attacco. 60 secondi, Abreu in area viene contratto miracolosamente da Lanzolla. Al minuto 12, Colella lancia a lungo per Ricchi, scarico per Riadaresta che viene murato dai difensori biancorossi. Al 26esimo, azione in carta carbone per Lattanzio, su torre della punta campana, stop e tiro schermato dalla difesa di casa. A 5 dall'intervallo, destro al volo di Manzo dalla distanza, cuoio che sfila a lato. Si rientra e al nono ecco d'improvviso il vantaggio Altamurano. Su manovra avviata addirittura da fallo laterale, folgore di baraggi dallo spigolo sinistro dell'area e sfera imparabile nel set. Parabola alta e perfida in contropiede dell'Altamura subito dopo, uscita sciagurata di Cannizzaro che tocca il pallone con la mano e si becca il rosso. Sulla punizione susseguente di Lorusso, inchioda sull'erba il pallone Figliola, subentrato a Manzo. Al 36esimo, Tazza ci prova da lontanissimo, automobile centrata dietro la porta nel parcheggio. Al 40esimo i bitontini emergono dal grigiore, cui erano costretti pure dall'inferiorità numerica, e pareggiano. In una selva di garrette altrui, duetto di pregevole fattura fra Lattanzio e Riccardi, con botta vincente sotto la traversa di quest'ultimo, ed è una 1. A due dallo scadere, occasionissima per i federiciani, con la conclusione ravvicinata d'esterno di Molinaro, che sfiora l'incrocio. Finisce così con un punto per i Leoncelli e uno per i Leoni, che approfitteranno certamente della pausa via Regina per ricaricarsi e puntare con maggior decisione agli obiettivi di stagione. Grazie.